Siamo all'interno della Courthouse con due ospiti, la famiglia Endrici della cantina Endrizzi. Signor Paolo, salve. Buongiorno, noi partecipiamo al festival da una decina d'anni, per noi uno degli appuntamenti più appassionanti ed interessanti dell'anno, perché da una parte ci ritroviamo con i nostri colleghi più scelti, dall'altra con giornalisti, con persone che sono veramente interessate al vino. Per cui è la passarella più importante alla quale partecipiamo e speriamo di poterlo fare ancora ai prossimi anni insieme a un pubblico veramente qualificato e sempre più motivato. Cristina, la parte degli operatori del settore viene curata molto bene qui al Merano Wine Festival. Avete avuto buoni riscontri anche quest'anno? Sì, noi da sempre abbiamo avuto una grande clientela italiana al Merano Wine Festival, però notiamo da un po' di tempo che il mercato internazionale ha preso contatto con Merano con veramente un afflusso abbastanza notevole, per cui sono qui tanti tedeschi, anche i bulgari abbiamo avuto oggi, per cui direi che serve anche per servire il mercato estero. Siccome Andrizi da sempre improntata sull'internazionalizzazione, credo che è comunque una bella vetrina anche per noi qua a Merano. Soprattutto per voi che comunque avete, per le vostre produzioni la maggior parte viene esportata, è proprio nella filosofia aziendale, avete iniziato così e quindi insomma questo Merano Wine Festival serve a consolidare ulteriormente l'export. Arrivederci! Grazie! Grazie molto, grazie! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!